Tutto a posto la cena? Sì, ora Virginia dovrebbe tornare, è andata a indossare dei polpacci nuovi Ah, ok, ok, ok Comprati, buon mercato È importante che ti sei trovato bene a cena Sai, ce l'ho messa tutta per fare una cena giusta per voi Era tanto che non venivate ospiti Eccomi Eccola, ciao Virginia Troppo forte l'aria condizionata Infatti è proprio una bella invenzione, è vero No, no, dico troppo forte che è un po' alta l'aria condizionata Ah, perfetta Ecco qua, senti un po' la temperatura adesso? Senti? Hai visto subito? Bellissimo Ma questa perché me l'ha riparata un mio amico che è un genio Pezza, quando ho comprato questo condizionatore era fallato Non è che me l'ha riparato, me l'ha migliorato Questo ti dico, è il genio dei condizionatori Matto scatenato ma è un genio Beh, pure noi, conosciamo uno che è sempre un pazzo scatenato ma è un genio Sì, sì Beh, lui calcola che lavora la NASA Ah, NASA? Che si dice astronave Sì E ripara i condizionatori Mazza Però pure lui appunto è un pazzo scatenato No, un pazzo scatenato, ovviamente costruisce i razzi Calcola che una volta siamo andati a casa sua e ti ricordi che stava costruendo un'astronave Un'astronave addirittura Ah, finissima Beh, calcola che ha otto anni e ha costruito un treno Un treno funzionante, non ha uno Ma è un bel avido, incredibile Mi dovete dare il numero di questo Sì, sì, no, è veramente bravo Quando lo trovi, non risponde al telefono, cambia città E poi è mezzo matto, immagino E posso offrirvi qualche altra cosa? No, no, no Tu pensa che in Italia la porta solamente a me e a Mattarella Ah, al presidente Ma in qualche è buona, è buonissima, veramente Veramente buona No, ma si sente che è proprio tenera, tenera E' piaciuta anche a me, perché, Gino, lo sai, io non ci faccio molto con la carne Beh, la mangi Eh, ma solo quello Perché preferisco il pesce Ma per il pesce vi do sta dritta Agostino Amare su Lungomare Nord Lo conosco Non lo conosci? No, non lo conosco Posto un po' nascosto, non lo conoscono tutti, ma fa un pesce da paura e spendi pochissimo Sì Penso, siamo stati l'altra volta in quattro Abbiamo preso antipasto di mare, antipasto di terra Abbiamo preso spaghetti all'astici e risotto allo scoglio Poi abbiamo preso grigliata mista, frittura mista, vino, caffè, limoncello dolce Abbiamo speso 15 euro in totale, penso Ma buono, ma che buono, ma che buono però Senti, ma tu ci sei mai stato in Grecia? Come no, in Grecia, ma come no Sono stato a Mykonos Pensa, un volo andato e ritorno è 100 euro Eh, però si trova quello, eh? No, ma me l'hanno da di loro Ah, te l'hanno da di loro? Sì, me l'hanno da di loro Perché era un'offerta speciale che pagavano loro Sì, sì, 100 euro No, 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 però tu devi andare, che bellissima, Satros Satros È un'isola che ci siamo stati noi, praticamente, vabbè Un'isola che non conosce nessuno, perché è proprio intima E siamo stati in un albergo Bello No, cioè, una roba da fasciare Calcola che ogni suite costa 9.000 euro a notte 9.000 euro a notte Sì, sì E beh, che calcola che è un 27 stelle 27 stelle Però tramite un amico del cugino del cognato di Virginia C'erano messo 65 euro Niente, proprio niente No, no, va bene Ma lì ci si va perché è un posto romantico Eh, sì, perché c'è il tramonto No, va a dire il tramonto Beh, tu hai le terrazze, no? Dove ti affacci la mattina E poi affacci il pomeriggio, affacci la sera Insomma, vedi gli scogli, le isolotte, le isolette E poi calcola che quando l'aria è veramente terza Vedi anche i fiordi Da Grecia Sì, perché è tutto pulito, capito? È tutto libero No, ma digli del tramonto No, allora, c'è il tramonto che è una cosa meravigliosa Perché lì il tramonto dura tre ore e mezzo Tre ore e mezzo Sì, perché stai sotto il meridiano, capito? Ah, non lo sapevo E poi c'è la cosa che è bella dell'effetto ottico Che se tu tipo fissi il sole Lo fissi per dieci secondi di seguito Lo vedi tondo, quadrato, poi buio, notte, subito È finissimo È bello, ricordi? Che forse Cioè, tondo, quadrato, buio Bellissimo È pazzesco No, io sono stato a Covid in Portogallo, invece Sì, perché c'è un tizio che mi ha presentato Il cognato del fratello di mio cugino che lavora a Little Gas Mi ha presentato questo Che era un ex ammiraglio della flotta navale inglese Che a un certo punto si è stufato Ha mollato tutto Questo è il miliardario di famiglia E ha comprato uno yacht Ma uno yacht che ci invita gli amici, no? Ma che yacht? 720 cabine Ogni cabine è 400 metri quadri, pensa In ogni cabine c'è il campo da tennis in sintetico Con l'istruttore fisso C'è un istruttore fisso Quindi ho 24 ore al giorno Seduto sul seggiorino Tu a qualsiasi ora vuoi palleggiare Quello si alza e ti fa palleggiare Una cosa pazzesca Ma bellissimo Poi tramite lui Che lì è un revuccio Che conoscono tutti Praticamente andava a cena Tutte le sere in un ristorante Che devi prenotare mediamente 21 anni prima Sì, perché Vuol dire che c'è È esclusivo È un ristorante esclusivo Sì, sì Ma visto che ti piace così tanto mangiare Che rapporto hai con il pesce crudo? Adoro il sushi Che poi è ottimo Perché il sushi anche gli dedico Sì, vabbè però Aspetta Se puoi mantenere la linea Ti do la dieta che faccio io Ah sì, è una dieta? Ah no, è meravigliosa Allora, per esempio Io a colazione mangio Una fetta di lattuga Tre fragole E un'acciuga E un'acciuga E poi a pranzo Mangio una, due cozze Una fetta di papaya E 20 grammi di sughero 20 grammi di sughero Buonissima E a cena Sette etti di carbonara Ammazza, funziona Sì Ma quanto si perde? 8 chili al giorno 8 chili al giorno Però non devi sgarrare Ma è certo Quella idea di chili No, non devi sgarrare assolutamente Tipo se mangi Tre etti di carbonara No, eh no Sette etti Sì, set etti Perché poi ti fa Capito Sughero Carbonara, sughero Io ho sempre la mia idea Cioè se vuoi perdere veramente chili Non devi mangiare Non mangi per un anno Un anno e mezzo Vedi i chili Li butti giù Eh lo so Però quelli lì Poi appena li mangi Ti prendi tutti Eh ma non devi ricominciare a mangiare E infatti l'errore è là Perché molti ricominciano Sì, molti ricominciano E purtroppo Però devo dire che questa funziona Ma anche perché ce l'ha data Quella è la dieta Il generale del cugino Del fratello di suo cognato Che fa il dietologo al Bolshoi Quindi se non ne sa di dieta lui E calcola che questo qui Ha costruito un elicottero Con le lattine di birra Ammazzo, matto Fantastico Sì, sì Matto vero questo No, no Lui ci va proprio in giro Poi con questo qui E prendete È amico di Obama Di Clooney E di Mick Jagger Mi sembra Sì, ha proprio di Mick Jagger Sapete di cosa è di Mick Jagger Che è un androide Sì, sì Un androide lo sapevamo Chi te l'ha detta? Putin Ah, sì Ah, fantastico È il mio compagno d'ombrelloni Cioè il vicino d'ombrelloni a Senigallia Dove vado sempre io Sì, sì, sì E poi Pure Putin Putin Era una donna Putin Però se quello si vede un po' dagli occhi Sì, sì Chi te l'ha detta? Tex Wheeler Ah, per causa Perché poi Tex Wheeler Sì, no, meraviglioso E' quello che succede In realtà No, veramente Allora, io pensavo questo Non è Ma io voglio Quello che si è andato Vaglietta Eh, no Grazie Grazie Grazie